Partiti all'osteccato è Lucky Rock, all'esterno Terror Spirit, Mondorosa, Frisson du Large e Best of Me. All'interno è Lucky Rock, con all'esterno Mondorosa e Frisson du Large. A centropista Best of Me segue Terror Spirit. Mondorosa e Frisson du Large conducono davanti a Best of Me, Terror Spirit e Lucky Rock. Sempre Mondorosa e Frisson du Large in vantaggio davanti a Terror Spirit, Best of Me e Lucky Rock. Passa Frisson du Large davanti a Best of Me, Terror Spirit e in vantaggio Frisson du Large attaccato all'esterno da Best of Me. E sempre in vantaggio Frisson du Large attaccato a centropista da Terror Spirit. Passa Terror Spirit davanti a Best of Me e Frisson du Large. Passa Terror Spirit, 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 Passa Terror Grazie. Grazie.